Massa di infiltrati andati a casa, che hanno già mandati a casa, cosa fate qui? Chi c'è la signora? Con quell'infiltrato lì, e chi è? Il segretario del PD, perché sono degli infiltrati, perché questa è una politica e loro si vogliono appropriare di una cosa che non è loro, che sono stati colpevoli di queste cose qui, è la vergogna questa, anche tutti, difatti Totti oramai è peggio di lui, Berlusconi oramai è peggio di Renzi. Ma se c'è gente che è d'accordo, che sia di qualsiasi partito, pur chi sia d'accordo, no? Siamo tutti uniti a lui che cazzo viene a fare l'infiltrato, appunto, deve essere il partito che non deve essere qui. Ma rappresenta quella parte degli italiani, il 17%, lo può rappresentare in quella parte degli italiani. Lei ce l'ha con il segretario Martini? No, io ce l'ho con gli infiltrati che sono politici in una discussione non apolitica. anche tu sei politico. Siamo politici in una discussione. Bravi, complimenti, bravi, complimenti. Bravi tutti. Ti dì che comunisti, questo è il discorso, comunisti, vergogna. Grazie. Grazie.